Ne ha già parlato Mattia su The Crisis, ma di Steve Jobs voglio parlarvene anch'io, perché è un grande film. Steve Jobs, diretto da Danny Boyle, ma soprattutto scritto da Aaron Sorkin. Perché dico soprattutto? Non perché la regia di Danny Boyle sia inutile o anonima, anzi, ma perché Sorkin dimostra di essere davvero forse il più grande sceneggiatore in attività. Perché due cose. Uno, trova un modo molto interessante, molto intelligente, dovuto in qualche modo alla sua esperienza teatrale, di raccontare Steve Jobs senza farne né il classico biopic, né il santino, né invece la satira, come dire, più o meno grottesca, che era un po' quello che voleva fare il film con Ashton Kutcher. Qui sceglie tre momenti fondamentali della carriera di Jobs, 84, 88 e 98, e capirete vedendo il film perché fondamentali. E in questi momenti, ambientati in un backstage di una presentazione di un nuovo prodotto, di volta in volta, in questi backstage fa filtrare tutti i suoi rapporti umani, personali, professionali. Mentre li filtra, racconta anche l'evoluzione dello Steve Jobs imprenditore, dello Steve Jobs genio, del marketing, dell'informatica e tutto. Ma soprattutto è una grande sceneggiatore Sorkin, un grandissimo sceneggiatore. Non solo perché è bravissimo nello strutturare la narrazione, la drammaturgia, nello scrivere dei dialoghi fantastici, ma perché tutte queste cose sono già un film, sono già cinema. Dentro la sua sceneggiatura c'è già la regia, l'impianto visivo del film, ci sono le inquadrature, ci sono i tagli di montaggio, ci sono i movimenti di macchina, c'è tutto il tempo, i ritmi, i toni, le atmosfere. Tutto quello che è un film e che è il cinema, possibilmente con la C maiuscola, è già compreso, previsto e ideato da Sorkin. Quindi Boyle non è un semplice esecutore, anzi è un direttore d'orchestra e la distinzione importante ai fini del film è una metafora che viene usata nel film, quella della direzione d'orchestra e non a caso molto spesso queste convention si tengono all'interno delle sale da concerto, dei music hall, perché il rapporto tra direttore d'orchestra, autore ed esecutori è fondamentale. Il grande autore della grande partitura è Sorkin, ma Boyle è uno splendido direttore d'orchestra, perché pur non, essendo sua la musica che va a dirigere, pur non sapendo suonare gli strumenti, sa dirigergli e sa farne una grande armonia, non solo gli attori, Fassbender perfetto, Kate Winslet incredibile e tutti gli altri bravissimi, Stuhlberg, Seth Rogen, Jeff Daniels, veramente bravissimi. Ma il montaggio, le luci, la fotografia è tutto straordinariamente amalgamato, organico, armonico, appunto. E ne viene fuori un film che quindi non solo è una cavalcata esaltante dentro la scrittura di Sorkin, ma è anche una cavalcata esaltante dentro quei personaggi, le parole che vengono usate, che sono anche fondamentali, il film è una riflessione sulla parola, sull'importanza della parola e su come la parola costruisce il mondo. Jobs, in qualche modo c'è un parallelo con lo stesso Sorkin, viene descritto come un personaggio che usa le parole per ammaliare, per incantare, per manipolare, non a caso i tre momenti scelti sono tre conventions, sono tre momenti in cui lui espone al pubblico e al mondo delle sue idee e quindi lo affascina con quelle parole, con quell'uso anche delle immagini e dei suoni del cinema. in poche parole. Quelle parole scolpiscono un personaggio, sono la chiave per capire quel personaggio, ma soprattutto creano un mondo. Attraverso quelle parole e quei momenti, Boyle e Sorkin raccontano come nasce il mondo contemporaneo. Se The Social Network aveva raccontato la psicologia del mondo contemporaneo, delle comunicazioni contemporanee, dell'umanità contemporanea attraverso la creazione di Facebook che ha cambiato il mondo, qui, come dire, si va un po' più indietro, si allarga un po' più e si amplia il discorso da un punto di vista economico, sociale, culturale, politico. È un grande film perché quelle parole, quelle immagini, che sono serratissime, che possono anche spiazzare, che possono stordire, che possono anche far mancare l'ossigeno per la velocità, per la rapidità, per la tensione che creano, in realtà non sono morte, non manca l'ossigeno perché comunicano tantissimo allo spettatore, lo inducono a stimoli percettivi, lo inducono a pensare, a riflettere, a cercare di capire come il mondo è cambiato in quei momenti, quali sono le variazioni che hanno creato un modo di comunicare, di pensare, di percepire il capitalismo, il lavoro, l'impresa, il marketing, il design, tutta una serie di riflessioni che vengono concentrate in due ore potenti, in due ore esplosive e che fanno proprio venire voglia di pensare. Io mentre vedevo il film avevo una voglia di scriverne, di fare questo video, di elaborare tutto quello che mi ha detto Sorkin, che mi ha detto Boyle e che non è semplicemente un dire ma è un dargli veramente una forma cinematografica che sembra anonima ma in realtà è forte, è viva, è completa, un grande film a Steve Jobs.